Bentornati su Dynote, oggi voglio proporre un video per quanto riguarda l'unboxing e l'ecensione per quanto riguarda il WDAF numero 498 di marzo 2024, il lasciato dalla Games Workshop. E questo posso già anticipare che è abbastanza interessante, a parte avere Washington in copertina che è un modello che io adoro anche se non l'ho. Possiamo vedere che all'interno ci sarà qualcosa legato ai growth traders per combat battle, ci sarà anche la possibilità di giocare multi-player per combat pattern. Ok, è una cosa che non mi interessa più tanto ma comunque può essere molto interessante. Ci saranno le regole per giocare alle Mega Battles per quanto riguarda i Jussima, che è semplicemente un modo per giocare a più di 3000 punti, quindi ok. E vi posso già anticipare che ci sarà anche qualcosa legato alle Kursus City, quindi sarà anche quello interessante. Ecco che andiamo a vedere che all'interno ci sono come sempre questi inserti e non mi piace di nuovo come siano messi qui, in modo che si rovino un po' la lettura, però quantomeno sono messi tutti assieme, quindi non vanno a spezzettare troppo il problema per quanto riguarda i VDAF, anche sempre i fisco esterni. Quindi abbiamo la missione per quanto riguarda i 40.000, quella per quanto riguarda i Jussima e poi abbiamo le regole per quanto riguarda le combat battle con appunto l'unità per i rogue traders, che sono un modo per aggiungere nuove regole, nuove modalità, quindi comunque può essere molto interessante anche perché aggiunge anche un po' di background relativo, quindi è sempre più che benvenuto. Quindi ora non rimane altro che andare effettivamente a vedere i contenuti. Qui possiamo vedere la cover alternativa per quanto riguarda il VDAF, che è la stessa che abbiamo potuto vedere qui, semplicemente senza alcuna scritta. E ricordate che l'unico modo per averla è quella di fare la sottoscrizione al VDAF, quindi comunque paghereste anche meno il VDAF, quindi sinceramente non mi dispiace affatto. Qui abbiamo l'introduzione al VDAF stesso, qui abbiamo i contenuti all'interno, che non sono affatto pochi, come possiamo vedere. Poi possiamo continuare a vedere qui quello che è la main list dei lettori al team del VDAF. Come sempre vi consiglio di guardare e leggerlo perché secondo me vale la pena. Per esempio qui abbiamo questi che non sono altro che un modo per creare delle sorte di espositori tridimensionali per quanto riguarda dei modelli. Quindi è un modo molto interessante, perché non è qualcosa di nuovo però mi piace questa cosa e potrebbe essere un'idea eventualmente da analizzare. Questo modello non è affatto male, sinceramente lo trovo molto interessante per quanto riguarda appunto il vederlo con queste colorazioni. È sempre bello, bell'acqua. Anche qui ci sono cose che potrebbero essere interessanti o altro, quindi secondo me c'è sempre qualcosa da guardare. Qui abbiamo quello che è appunto l'introduzione per quanto riguarda il bunker e anche qui, come sempre, vi ricordo che è un qualcosa da guardare, però è semplicemente un modo per, diciamo, farvi introdurre al lobby, farvi fare qualcosa e quindi secondo me ci sta, è un modo semplicemente per coinvolgervi. Qui possiamo dare anche un esempio di campagna, Crusade per quanto riguarda appunto questo bunker, però appunto è un modo per farvi partecipare. E qui vi ricordo, vi consiglio sempre di guardare un'occhiata all'immagine perché potete trovare qualcosa di interessante per quanto riguarda gli schemi di colore, per quanto riguarda le modifiche, per le basette, quindi c'è sempre magari qualcosa da guardare secondo me ne vale anche la pena. Qui possiamo trovare le missioni che abbiamo trovato prima degli inserti con 40.000, questo che per quanto riguarda i Joe Searman, e qui abbiamo anche quello per quanto riguarda la combat pattern, quindi nel caso di ottenere comunque le schede avete comunque queste che vi rimangono. Poi qui abbiamo questo che è praticamente l'allenamento base, semplicemente un modo per spiegare alcune regole in questo caso riguardante volarmi al 40.000 e lo trovo particolarmente intrigante perché comunque vi consiglio di darci un'occhiata perché le meccaniche potrebbero essere utili anche per altri giochi, quindi ve lo consiglio nel caso e questo è sempre tornare utile insomma. Questo è un articolo invece che trovo molto interessante perché riguarda come andare a studiare uno schema di colore e magari associare lo schema di colore a quello che è la basetta o altro, come andarli a selezionare, come andare a verificarli o altro, cioè secondo me è molto interessante. Qui ci sono molte informazioni che possono essere molto utili, anche qui quando si trova qualcosa per quanto riguarda idee per creare basette o altro secondo me diventa molto intrigante, quindi ve lo consiglio perché secondo me è un ottimo modo proprio per sviluppare e avere nuove informazioni. Qui invece abbiamo questo che è per quanto riguarda appunto uno dei vari Satellite Club per quanto riguarda la Games Workshop, in questo caso è per quanto riguarda Petersfield e vi consiglio sempre di dare un'occhiata perché vi permette di dare magari idee per dipingere, modificare, basettare. Per esempio anche qui abbiamo questi che sono degli Stormcast Tennis in stile pietra, che insomma sono molto interessanti. Anche qui diversi schemi di colori che possono essere molto utili per luci o altro. Veramente tante piccole cose molto interessanti che secondo me valgono la pena di essere guardate. Qui abbiamo per quanto riguarda Warhammer 40.000 quindi a vedere un po' più nel dettaglio. Qui abbiamo questo che va a introdurre quelle che sono i Rogue Trader per la Compa Pattern con il background relativo che secondo me è molto interessante e vi permette di approfondire molto questa cosa con le regole che abbiamo già visto prima sono negli inserti quindi qui le avete di nuovo all'interno. Anche qui le schede per giocare con appunto le unità per la Compa Pattern con Rogue Trader. Qui abbiamo per giocare con molti giocatori nelle Compa Pattern. Qui, io ripeto, non sono interessato alle Compa Pattern però credo che siano molto interessanti questo tipo di cose perché comunque per chi è interessato è un modo molto interessante per andare a giocare con anche missioni specifiche per quanto riguarda i molti giocatori nelle Compa Pattern. Quindi vi permette proprio di andare a sfruttare il tutto e secondo me merito davvero. Qui abbiamo del background molto interessante che riguarda il logo tenente Titus e come si è sviluppata praticamente la sua storia e secondo me è un modo anche per vedere un po' come si sviluppa il background di Warhammer 4.000 perché è collegato a molti eventi e quindi questo permette di farvi anche un po' di legame con i vari passaggi e soprattutto secondo me è sempre molto interessante perché il background aggiuntivo è molto utile. Quindi vi consiglio sempre di darci un'occhiata perché secondo me merita. Qui abbiamo questo che è praticamente la continuazione di quello che è una novella per quanto riguarda in questo caso i Black Console contro i TID e come sempre è molto interessante perché vi permette di approfondire un capitolo e così via quindi è molto piacevole. Qui abbiamo il background e regole per quanto riguarda il team con le lame di Kane. Quindi possiamo dare anche molto per quanto riguarda le regole. Per chi è interessato con le varie unità anche qui le Banshee o altro secondo me è essenziale perché appunto chi gioca anche il team queste cose sono la base ci sta. Quindi possiamo dare veramente tante cose per chi è interessato. Ovviamente anche comunque un po' di background nel mezzo c'è quindi vi lo consiglio. E qui possiamo andare a vedere per quanto riguarda le Agios. Sì ma mi piace tantissimo questa parte per quanto riguarda la Saboripes come immagine e io spero che in futuri lasciano queste stagionate di ossa perché secondo me sarebbe molto interessante a personalizzare. Vediamo quindi la storia dei quattro Warlord, dei quattro generali. E io vi consiglio sempre di dare un'occhiata a queste parti qui perché trovate molto di interessante. Per esempio possiamo vedere questo che è praticamente un mescolo di quello che è uno Storm Drake con una parte di Principe Demon per ottenere un modello completamente nuovo. Una modifica molto interessante. Qui abbiamo per quanto riguarda le City of Sigmar. Qui abbiamo per quanto riguarda ad esempio i vampiri e possiamo trovare qualcosa di molto interessante perché possiamo focalizzarsi sia su questo modello che praticamente quello che è la cavalcatura di Archon però modificata per essere un vampiro Lord su Drago Zombie quindi molto interessante ma non finisce qui perché se fate a vedere ulteriormente per quanto riguarda queste immagini possiamo trovare questo che praticamente è una sorta di Val Goofo, un lupo con però le ali. Se andiamo a vedere per quanto riguarda questo modello qui vi ricorda qualcosa di familiare? Sì perché sono quelli di Curse City ma modificati in modo da avere le ali. Quindi delle piccole dettagli molto intriganti. Anche qui c'è un modello che è modificato quindi secondo me vi conviene studiarvi un po' quello che vedete nelle immagini perché trovate molto interessante. Anche qui questo magari per i colori potrebbe essere utile. Qui vediamo per l'arca arcana che riguarda per quanto riguarda il bestiaro se vogliamo chiamarlo così per le Galletian, per Gur e sia per le immagini che per il background secondo me è un modo per conoscere meglio comunque le ami di Josimba quindi lo trovo sempre molto interessante. E poi qui abbiamo un racconto che è estremamente interessante perché riva a riprendere qualcosa che si è potuto vedere con una caratteristica particolare ovvero Breath of Everchosen. Quindi tra l'altro vi porterò comunque in futuro anche l'analisi del background di questo libro. Però quello che voglio sottolinearvi è che qui c'è veramente tanto perché vado a approfondire quelli che sono gli Osso e Boripers e in particolare quelli che sono i luogotenenti per quanto riguarda Catacross. E vengono anche nominati quindi possiamo conoscere meglio quello che è per quanto riguarda questo che è Karash che appunto quello che è il maestro d'arma per quanto riguarda appunto Catacross e possiamo vedere anche quello che è praticamente lo Spy Master questa che è Tinos. E tra l'altro questa è una donna perché le chiamano Korshi quindi anche questo è molto interessante a riguardo e sinceramente a modo per conoscere perché di questi ad esempio non sapevo i nomi e qui ci vengono presentati. Quindi qualche volta possiamo trovare anche delle informazioni molto interessanti in questi piccoli articoli. E tra l'altro viene anche detto che appunto Karash è affetto dallo stesso problema che ha Catacross perché appunto è stato anche lui ferito da quella che è la lama demoniaca di Arkhaon. Quindi anche qui molto intrigante. Qui possiamo dare questo che è come giocare per 3.000 punti in più per quanto riguarda i Jossima e lo trovo molto meno interessante. Anche perché ci sono comunque le missioni per giocarle e secondo me è un modo molto interessante e sarei curioso di provarle perché sono curioso di provare partite più grosse. Qui possiamo trovare poi un altro articolo per quanto riguarda Korshi City per quanto riguarda i Flash Heater Kurs quindi nuovo background, nuove regole quindi trovo estremamente interessante. Questo secondo me merita davvero anche perché io odoro Korshi City e mi piace avere nuove opzioni da poterci giocare. Quindi c'è veramente anche tanto a riguardo. Poi troviamo anche queste schede che vi ricordo potete fotocopiare e utilizzare poi in gioco quindi secondo me è molto interessante. Qui abbiamo queste che sono quelle che abbiamo visto prima per quanto riguarda gli inserti. Anche qui avete altre schede che potete fotocopiare e utilizzare. E poi qui abbiamo questo che per quanto riguarda Volkai con un po' di background ma soprattutto nuove regole per giocare così come abbiamo visto perché il team c'è veramente tanto a riguardo quindi per chi è interessato a Volkai secondo me merita. Qui comunque potete estrarre comunque nel mezzo ci sono diversi piccoli dettagli per quanto riguarda il background quindi magari anche leggerlo così tanto per avere qualche informazione in più potrebbe essere interessante. Secondo me ci sta. Ripeto perché è interessato a Volkai questo comunque diventa essenziale. Qui abbiamo invece per quanto riguarda Lord of the Rings e Signore degli Anelli. Quindi qui possiamo vedere qualcosa di molto interessante. Io sinceramente non sono un appassionato di questo gioco però mi piace la parte per quanto riguarda gli animali scienzi che secondo me sono favolosi, veramente belli. Oltre che è molto bello vedere l'immagine delle foto perché per i combattimenti altro può far venire idee molto interessanti per quanto riguarda il creare diorami o altro, lo trovo molto intrigante. Secondo me questo senso è veramente molto bello e quindi vi consiglio comunque magari da un'occhiata all'immagine o altro per farvi vedere qualche idea. Potrebbe essere interessante magari per conoscere il gioco. Secondo me c'è davvero tante cose che possono essere intriganti. Qui abbiamo per quanto riguarda la Black Library con una parte ulteriore per quanto riguarda la novella del Tomb Keepers che voglio ricordare è un capitolo creato dal team The White Half che ora oltre che avere le regole ha avuto anche materiale per quanto riguarda la Black Library. E come sempre vi ricordo che leggere questi articoli in modo per conoscere meglio l'inglese, per guardare qualcosa che può essere un nuovo autore che scrive di un'armata che conoscete per conoscere una nuova armata o altro, comunque secondo me merita sempre perché vi permette magari di creare delle ambientazioni, vedere qualcosa che vi può attirare. Ci sta sempre secondo me. poi qui abbiamo per quanto riguarda l'inside studio e tra l'altro qua c'è l'anticipazione di cosa vedremo nel numero 500 perché essendo la 5 centinaia ci sarà qualcosa di speciale e qua sono i eventi scenici che vedremo in quello quindi anche qui sarà in modo molto interessante. Tra l'altro qua c'è ancora qualcosa relativo proprio al nuove regole vedremo per quanto riguarda e qui c'è l'anticipazione di cosa vedremo nel prossimo White Half che è riguardante l'Attack World con qua che possiamo vedere che è relativo a Vastor. Sinceramente mi pare un po' strano perché se andiamo a vedere sarebbe questo il volume che aveva Vastor in copertina quindi mi sarebbe aspettato di trovare qualcosa relativo adesso qui. Ok non c'è però comunque vedremo che nel prossimo numero a quanto pare ci sarà e sono molto curioso. Quindi che dire di questo White Half penso che sia molto interessante perché se andiamo a vedere a livello di regole ci sono per quanto riguarda World Cry per quanto riguarda Kill Team, per quanto riguarda le posizioni per Recurso City e abbiamo visto per quanto riguarda le Mega Battle per Joe Sirman quindi c'è veramente tanto da guardare. Poi abbiamo moltissimo per quanto riguarda anche il background che secondo me veramente è molto molto intrigante a cui va aggiunto anche moltissima parte per quanto riguarda modifiche e pittura quindi di diverse cose ci sono secondo me magari non lo definirei quello che è diciamo la mia ideale di White Half cioè un must have però comunque è molto interessante vedremo comunque anche nei prossimi questo sicuramente è molto molto interessante e merita secondo me di essere detto. In ogni modo fatemi sapere voi. Al momento solo per la parte questa di White Half ho deciso di mettere in descrizione il link a una uscita di Amazon dove potreste eventualmente regalarmi quelli che sono i prodotti all'interno quindi eventualmente che possono essere utili per il canale o per eventuali recensioni in futuro quindi metterò lì eventualmente prodotti a cui sono interessato. Ricordate che non è un qualcosa a cui dovete tenervi considerarvi obbligati o altro è solo un qualcosa che se per caso voleste farmi un regalo lì c'è l'opzione comunque non influirà sul resto dei video che comunque porterò quindi eventualmente è un'opzione da considerare ad ogni modo Da Dynamode è tutto vi invito a iscrivervi al canale, a suonare la campanella per ricevere notifiche per quanto riguarda nuovi video, a commentare qui sotto per quanto riguarda questo video o se volete suggerirmi per quanto riguarda nuovi video a cui potreste essere interessati. Spero di rivedervi presto, alla prossima!